Una giornata importante che generalmente coincide con la manifestazione del primo maggio e che per ovvi motivi siamo riusciti ad avere questa possibilità di poter concedere loro il brevetto e la stella al merito che è testimonianza della loro attività lavorativa, prova per tanti anni di lavoro con grande esperienza. E' quasi un anomalo primo maggio in autunno la cerimonia che oggi è allo stabile di potenza ha visto la consegna di 17 stelle al merito ad altrettanti neomaestri del lavoro lucani per gli anni 2020 e 2021, ma al tempo stesso è una specie di piena primavera dato che dal gelo delle chiusure che hanno bloccato le cerimonie negli anni scorsi si è passati a una ripartenza. In realtà è anche il segno che stiamo pian piano uscendo da quella che era la crisi della pandemia del Covid-19 e quindi è bellissimo che si possa rifare in presenza, l'anno scorso non è stato fatto e onore al merito. Ed il merito è di 19 lucani, due che hanno ricevuto il riconoscimento in rappresentanza della Basilicata e con altrettanti insigniti per ogni regione lo scorso 10 novembre al Quirinale dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e cioè Carlo Maisto e Melchiorre Porretti, altri 17 che la stella l'hanno ricevuta direttamente oggi alla presenza delle autorità regionali, provinciali e comunali. Tra loro quattro donne, Maria Teresa Berterame, Anna Caldarola, Concetta Lo Scalzo e Rosetta Porsia e poi Vito Colangelo, Vito Pace, Gino D'Agostino, Lanfranco Ramaiola, Damiano Maragno, Antonio Braia, Vincenzo Losasso, Alessandro Pontolillo, Rocco D'Andrea, Antonio Lancellotti, Gelsomino Padula, Pasquale Santarsiero e Canio Sileo rappresentanti praticamente di tutti i settori produttivi, pubblici e privati lavoratori che dopo una vita di esempio e dedizione per gli altri hanno ottenuto, sia pure con qualche mese di ritardo, un giorno dedicato a loro. Siamo riusciti sulla indicazione data dal Ministero del Lavoro a organizzarla quest'anno recuperiamo quindi il 2020 e il 2021.